Il secondo relatore Ha un inglese molto fluente perché lui è nato in Canada You have not, just not to go too quick perché lui va molto veloce quando parla Spiros è un riflessologo che si occupa di riflessologia, viene chiamata riflessologia ortopedica Basandosi sugli insegnamenti di Ipocrate Ipocrate, voi sapete, è il padre della medicina moderna Ora, il termine ortopedico non deve far confondere con la tecnica medica dell'ortopedia Ma dovete dividere la parola in due per la sua etimologia Quindi vedete che a metà c'è il rametto dell'ulivo? Orto vuol dire standing, sto fermo, dritto, dove? Sui piedi Mobility autonomy Sto dritto sui piedi, ecco perché ortopedic riflessologi Ok Buongiorno a tutti Ah, è solamente una, just another little thing Edoardo, con questa tecnica, lui, diciamo, tiene corsi un po' ovunque In giro per l'Europa What did you say now? That you used to take courses all over you Yes, all right, thank you Buongiorno a tutti, mille grazie Good morning to everybody It is important for me, before I begin, to say a big thank you Grazie maggiore, to FIRP Il molto importante per me, prima di cominciare, è di ringraziarvi e ringraziare la FIRP per essere qua Io sono stato al vostro convegno europeo di riflessologia a Riccione nel 2000 Era 2004 o 2003? 2003 E Stefano, in quel momento, era nel direttivo della FIRP Stefano Suardi E a seguito di quella conferenza, è cambiato qualcosa Beh, quella volta lì eravamo veramente tanti, eravamo circa 400 persone a Riccione Questa qui è la storia di una bimba che è nata prematura, sei mesi A sei mesi Chiaramente Tell the story, she would stop breathing and tickles the nurse and then the parents had to tickle her Ok, siccome conosco la storia ve la racconto brevemente Questa piccola, praticamente essendo di sei mesi, non aveva i polmoni completamente sviluppati come una bimba che avrebbe dovuto nascere a nove mesi Quindi aveva queste crisi respiratorie Si sono accorti che non con un massaggio reflessologico Ma toccando i piedi della bambina, la bambina, cioè massaggiando i piedini, toccando i piedini, la bambina stava meglio Ed ecco perché questo articolo, vedete, l'antetenuta viva, tickling her feet Cioè toccando i suoi piedini, ma non c'era nessuna volontà di correlarlo alla reflessologia Perché lo faceva la mamma, perché lo facevano le persone attorno È stata una scoperta così, casuale Poi dopo è venuto l'interesse verso ma cosa è successo, perché, cosa c'è sotto sto piede So the nurses did not teach mama and papa to work on pulmone, reflex, on brainstem, in generale I genitori, nessuno li avevano struiti a toccare qualche cosa perché non avevano nessun tipo di nozione Quindi è stata una cosa naturale Interessante, sì, è una reflexologia? È un reflex, ma non è il pulmone, è qualcosa di altro E questo è quello che faccio in orthopedico, ho cercato di capire Quello che mi interessa molto è cercare di capire le connessioni che ci sono Quanti differenti metodi di lavoro abbiamo? Quanti differenti mappe abbiamo in giro per il mondo? Vi posso dire che solo in Europa quelle censite, pubblicate, sono una cinquantina In più ci sono anche quelle dei singoli reflexologi che hanno fatto una mappa Questa qui è Eunice Ingham Andiamo a vedere che cosa ha detto Lui ha cercato, ha preso tramite Google traduttore, chiaramente perché è uno strumento molto efficace Ha tradotto delle slide dall'inglese in italiano Quindi vado a rendervi più facile anche la comprensione Vedete come è nata l'idea All'inizio era quella, un po' quella che si è utilizzata per tanto tempo Che poi comunque va anche valutata Comunque dove c'è un fastidio tu seguilo Vedremo che non si riferisce solamente ai punti riflessi ma anche a quello che c'è sotto il piede I trattamenti erano molto brevi, da 10-15 minuti Chi sono i nostri clienti? Magari qualcuno che ha mal di schiena Non mi cerca su Google Vado al dottore, vado al fisioterapista, vado all'omeopata E poi viene da me Quando il problema magari è cronico da 4 mesi Non è ancora stato risolto E non hanno capito che cosa c'è che non funziona E questo rende il cliente chiaramente vulnerabile a quelle che sono i trattamenti, le cure Recentemente ci sono teorie Che sui piedi non ci sono cristalli Dr. Manzanares Avrete notato nei vostri trattamenti che a volte sentite come della sabbietta sotto Ok, sta parlando di queste cose qui Perché ci sono vari tipi di cristalli Adesso ve li farò vedere E un medico, Manzanares, lui dice Non esistono i cristalli sotto il piede Manzanares è un medico che ha fatto una ricerca sui bambini, piccolini Che è stata diagnosticata la DHD Cioè la iperattività He says, Manzanares, that it's multiplied nerve endings Sì Multiplied Multiplied, sì Nerve endings Terminale, nurola Terminali nervosi Lavorare sui terminali nervosi Ok Questa di Manzanares è un'altra storia che è molto interessante comunque Perché ha ottenuto buoni risultati Pur non essendo un reflessologo Attenzione Pur non essendo un reflessologo Facendo i massaggini sui polpastrelli delle dita dei bimbi Ida Rolf Speaks about calcifications, fascia therapy E quello che lui dice è Quando si va a trattare Tratta anche i fasciali La parte fasciale del piede Quindi questo che cosa vuol dire? Vuol dire Che Nella ortopedic Oh mamma mia Nella ortopedic riflessology Bisogna conoscere Profondamente Molto bene Quelli che sono Tutti i componenti del piede Quindi i nervi Che passano nel piede Come si chiamano i muscoli I tendini Different theories Everyone says something Differenti teorie Chiaramente non è abbandonata La parte dei Ingram said Crystals Ingram disse che i cristalli Crystal are thropathies in medicine The pathology is called Questi sono dei cristalli Diciamo Analizzati E questo qui è quello che si vede al microscopio And in her book She describes Orlando look at me In her book she describes That there's an accumulation of crystals So a blockage of blood supply here Representa a blockage of blood supply Somewhere in the body The reflex If you break this up The blood circulates here Everything is good Ok In pratica Praticamente Lei ha parlato di zone Dove ci sono questi cristalli Ed è possibile Non so Per esempio Che la zona Una certa zona Abbia una sofferenza di circolazione Questo Quello che lui dice Io vado a lavorare Un po' quello che poi sarebbe la nostra concezione Noi sappiamo che anatomicamente questa è una mano o un piede Non c'è un cuore sotto È un riflesso energetico Però il fine è quello di andare a liberare Non so Degli impedimenti circolatori in una zona Per facilitare la zona più distante Ma nella sua Diciamo Teoria C'è E pratica C'è il fatto che potrebbe essere congestionata anche solo la singola zona So Yuric acid Crystals In joints This is what Eunice Ingham said Yuric acid In joints I Acido yurico Bisogna guardare Articolazione Perinostio I tipi di Diciamo Di Questi Cristalli Che possono essere di Minerali Cholesterolo Cholesterolo sui tendini Possono essere di Acidi yurici And Calcium In soft tissue Minerali Appunto Depositi Calcium In soft tissue So now If you know Where you find something Quindi quando troviamo questi cristalli Possono avere queste tre differenti origini And you know which anatomical structure you're touching You know which kind of crystals E a seconda di dove lo trovate Quindi se lo trovate Nei tessuti molli Se lo trovate in correlazione dei punti dell'agopuntura Se lo trovate In Corrispondenza delle articolazioni Questi acidi Questi cristalli Possono avere una differente origine Per esempio Quelli vicini alle articolazioni Sono normalmente Classificati Ma questo Si dice anche in medicina Quelli acidi yurici Questo è quello che succede Quando ci sono questi capillari Dove i cristalli intervengono Cioè creano una Diciamo Una Difficoltà Nello scambio Tra il sangue venoso E il sangue arterioso E il sangue venoso A livello dei capillari Questo è un piede Con tutte Queste zone Con molte zone Dove si sono depositati Questi cristalli Guardate che Manzanares Lui lavora Molto superficialmente Mentre vedete Come sono profondi Invece Queste Si possono chiamare anche Se sono di calcio Calcificazioni Se sono di acidi yurici Sono sempre Delle Sorte di Inspessimenti Perché quando Questo acido Precipita A questo punto Crea l'infiammazione Fa male E poi si vanno A depositare Sotto forma di Diciamo Ingrandimento Della parte ossea E lui Dice Che vuole Quando trova Queste cose qui Va a lavorare In profondità In United Kingdom Two nurses Wanted to Do research For the heart Nel Regno Unito Due infermiere Hanno voluto fare Una ricerca Per il cuore Sul cuore Hanno guardato Sui libri Too many heart Reflexes This is not science E hanno visto Che ci sono Tante mappe Che dicono Che il cuore Si trova Qui 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 They ask AOR AOR È un'associazione Forse l'associazione Più grande Di reflessologi Che c'è In Inghilio I membri To click On the internet Where the heart Reflexes This is the results E questi qui Sono i risultati Vedete quei numerini Quei numerini Sono Le volte Che è stato trovato Il riflesso del cuore Su quella zona Quindi Per esempio Guardate La maggior parte 99 Su 99 Tipi di Versioni Di dove si trova il cuore E comunque In una zona Molto simile A quella che Pratichiamo noi Però guardate Che ci sono anche Sul piede Sull'altro piede Do you understand How difficult it is Quindi Quindi loro Queste infermiere Hanno detto Ma dove Non fate il cuore Quindi hanno fatto Una Una ricerca Sul muscolo Sul riflesso Del muscolo Diaframmatico E hanno lavorato Sulla linea Diaframmatica E hanno avuto Buoni risultati Perché? Mi sono chiesto Perché hanno avuto Buoni risultati Perché se faccio La comparazione Tra i metatarsi E il calcagno Vedo Quanti Vedete quante Vasi arteriosi Ci sono Quindi il discorso È stato Di verificare Poi sul piede Dov'è che c'è Più Affluenza Di sangue Dov'è che ci sono Più Diciamo Artericole Arterie Quindi sangue arterioso Arteriole Giusto? Ok L'ortopedico Mi aiuta qua Proprio in quella zona lì Proprio in quella zona lì Quella che noi conosciamo Maggiormente Come l'area dei polmoni Che è universalmente Riconosciuta Come quella zona lì So green is Hannah Marquard Germany Scandinavian countries Green The anatomical position Representation of the heart Tell them please Marquard ha rappresentato Il cuore Green color Nella parte verde Quindi La teoria di Hannah Marquard Dice il cuore Si trova Nella parte verde Yellow Is Inga Dugans With Meridians From South Africa Denmark La parte gialla Invece È la teoria Di Inga Dugans Qualcuno ha letto il libro Guarire con la riflessologia The water element for fire Questa donna lavora anche con gli elementi Inga Dugans Dal Sud Africa Lei dice che il cuore è dove c'è il giallo Red is Father Joseph Catholic priest from Taiwan Padre Joseph da Taiwan È un altro famoso But that is Galbladder Meridian Riflessologo Dice che è in questa zona qui A sinistra vedete quello rosso Ma lì è anche una zona dove superficialmente c'è il meridiano Scusa C'è il meridiano della cistifelia E quello in blu viene classificato la parte brachiale Diciamo quella che noi facciamo sopra On top Il contorno ti delinea una zona molto ampia E io seguo quello che diceva Eunice Ingham Vado a cercare dove ci sono queste sofferenze Nei legamenti, nei tessuti E come voi avete E l'Ipio Zamboni infatti c'è un grosso riflesso del cuore in quella zona lì Guardate che il riflesso qui in questo caso si comprende molto di più Perché viene identificato un'aria molto irrorata dal sangue Semplice So here they see the tibial artery Medially, tibial artery Here it enters And then it branches off And now I have one theory to share E ora ho una teoria da mostrarvi Se l'arteria che scorre su questo punto E sui metatarsi E compressa O l'arteria tibiale Anche questa è schiacciata Il barometro La pressione Cosa dice? Piccolo 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 impedimento alla circolazione sanguigna Chi è che lo dice anche? Brain stem E' il riflesso che si trova al controllo Ok? Il deputato al controllo Della pressione sanguigna E che cosa dice il cervello Al corpo in questo caso? Aumenta La pressione Perché lì c'è un impedimento Legge l'impedimento Quindi dice Io devo forzare Questa barriera Potremmo 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 Quindi che cosa succede? Questa pressione Aumenta Il cliente va dal medico E gli danno magari La pressione Oppure viene da voi Per farsi fare la reflessologia Tu lavori sui metatarsi Se lavori su quella zona lì Magari si riesce a liberare Quella zona che è compressa E dai muscoli Dai tendini O da qualche sostanza Che abbiamo visto prima Qualche cristallo Una volta che questa cosa Viene risolta localmente Il cervello riceve anche il messaggio Che questa cosa è stata risolta E si riequilibria Di nuovo la situazione Ipothesis Un'ipotesi Un'altra questione Un'altro problema L'intestino L'ideale posizione dell'intestino In realtà non fa quel disegno Sulle mappe di reflessologia Perché è molto più articolato All'interno del corpo Vedete questo qui è il colon Vedete tutto il giro E sembra il circuito di Monza Chiaramente questa è una For fun Nella reflessologia ortopedica Guardo l'anatomia Comprendo bene la fisiologia Chiaramente quella del piede E lavoro su questo Oltre che chiaramente Sui riflessi Credo in questo lavoro Per tanti motivi Giusto Per ogni persona Può esserci un motivo diverso E cerco di capire Perché sto lavorando In quel modo lì A volte Diciamo Anche cominciando a lavorare E poi dico Ma perché sto lavorando Su quella zona lì Ippocrates Gives us one paragraph For massage rubbing Ippocrates ci ha lasciato una Diciamo Delle indicazioni Per quello che riguarda Il massaggio So strong Strong rubbing Vines Forte Pressione forte Vines Comprime E assottiglia Soft 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 makes loose Soft No scusate Pressione forte Fa diventare spesso E pressione soft Assottiglia Time Vedete che lui ha fatto C'è una traduzione Si dice carne In realtà Non è un termine Che cosa vuol dire Vuol dire che Se io strofino forte O premo forte Una zona Che è A una certa superficie Dopo un po' Ovviamente C'è una Fologosi Si gonfia Questa zona Ok Quindi c'è Tradotto Aumenta la carne In realtà Cioè Si riempie di più Per un certo periodo Di Tempo Il muscolo Si ingrandisce Il muscolo Che noi abbiamo Dietro Il riflesso Della Colonna vertebrale E per molto tempo Questo si assottiglia In pratica Quando si fa Un trattamento Su questa zona qua Vi sarete accorti Molte volte Che queste zone qui Magari sono Molto irrigidite Ok Marco Questo lo sa benissimo Come ortopedico Che c'è Un forte collegamento Tra l'espessimento Di questo muscolo E il mal di schiena Per esempio O la postura Quindi Quello che dice Spiros Io vado Sciogliere Questo nodo Qui Indipendentemente Dalla zona Del riflesso E questo Mi porta Un beneficio Si capisce? E questo posso Applicarlo Anche sul corpo Ovviamente O sui Muscoli Intrinseci Del piede Con questo paragrafo Ippocrate Ha risposto All'eterna domanda Degli studenti Dove devo premere Quanto devo premere E per quanto tempo Possiamo fare il lavoro Su questi muscoli E ora possiamo pensare Alla mappa Non in una sola dimensione Ma quanto profondo Puoi andare Perché gli organi Sono sovrapposti Ci sono molti organi Che sono sovrapposti Nei riflessi Se il massaggio O scusate Se il muscolo Se il muscolo È molto Diciamo Soffice È molto La zona è molto molle Come chiamarlo così Dobbiamo andare Più Pressione Compressione Più forte Per farlo Per Andare sul Sul discorso opposto Cioè in pratica L'opposto Fa bene All'opposto All'opposto